Hai cercando magliette? Ti interessa questa? Questa? Oppure questa? Passa nel link in descrizione, non te ne pentirai John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a parlare di un possibile colpo che potrebbe fare la Roma che però sinceramente mi fa storcere il naso Sto parlando ovviamente di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, questa è una notizia lanciata dal Corriere dello Sport Quindi non da me ma dal Corriere dello Sport E allora diciamo che il Corriere dello Sport ha costato Chiesa a Roma parlando anche di un'offerta piuttosto grande Di cui adesso parleremo, una folle offerta, una folle offerta, un'offerta da pazzi, ora ve ne parleremo Ve ne parlerò, vediamo un po', secondo me ragazzi spero sia falsa perché altrimenti sarebbe scema la Roma ad averla fatta e la Fiorentina ad averla rifiutata Ma insomma adesso ne parleremo Allora, premettiamo una cosa importante, io amo Chiesa, anzi lasciate un mi piace ragazzi e volete altri video Mi raccomando, anzi lasciate un mi piace in questo momento, io amo Chiesa, io amo Chiesa con tutto me stesso Lo sapete, ogni volta che si parla di Chiesa tendo sempre a sopravvalutarlo Io amo Chiesa, è uno dei miei giocatori preferiti della Serie A E sinceramente lo reputo un grandissimo giocatore già in questo momento Amo Chiesa, sul giocatore c'è anche il Napoli, si parla di cifre a rialzo C'è il Napoli, la Roma, il Milan, l'Inter, la Juventus Perché è normale che un giocatore forte come Chiesa sia, diciamo, tanto ricercato quanto poi effettivamente lo è Chiesa E per me ad essere sinceri vale quei 40-50 milioni di euro Addirittura la Fiorentina ha messo una clausola rescissoria pari a 70 milioni di euro Che ci sta, perché non è che ci sta spendergli 70 per Chiesa Però ci sta che se tu non vuoi cedere un giocatore Te metti là, fai una clausola rescissoria grossa, grossa, grossa Per dirvi, la Fiorentina ha venduto il terzino lì, quello scarso Scarso, scarso, Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona Lo Sporting ha messo una clausola di 70 milioni di euro Non perché pensa che qualcuno glielo possa rubare per 35 Ma magari se avessero messo una clausola di 35 milioni Avrebbero fatto olè quando glielo avrebbero preso Però capite bene che Cioè ragazzi, questa è una cifra messa lì per dire No, non lo cedo, no, non parte A meno che non arriva un folle, mi fa questa offerta, non parte Qual è la cifra offerta dalla Roma secondo me folle? Si parla di 50 milioni di euro Più il cartellino di Stefan El-Sharawi Addirittura il Corriere dello Sport, quando poi ero lessi io Disse che la Fiorentina aveva rifiutato questa ipotesi, questa offerta Io sinceramente ragazzi credo che questa, credo che questa offerta sia folle E credo di non essere contento dell'offerta Cioè se la Fiorentina avessi accettato mi sarebbe rosso parecchio il culo sinceramente Perché io penso che Chiesa non valga 50 milioni per El-Sharawi E credo anche che la Fiorentina sia pazza a rifiutare un'offerta qualora essa fosse vera Per il semplice fatto ragazzi che con 50 milioni per dire tu ci prendevi Con 10 milioni Meret per dire Con 25 milioni Cristanti che abbiamo preso noi Con altri 15 milioni Acerbi che è verso la Lazio Va bene perdi Badel e ok Avevi El-Sharawi come sostituto Avevi la formazione 4-2-3-1 Con in porta Meret in difesa Pezzelle e Acerbi A destra Laurinia A sinistra Biraghi Sulla mediana Veretù e Cristante Sulla tre quarti Terò A destra Benassi A sinistra El-Sharawi Davanti Simeone Avevi preso Acerbi, Meret Acerbi, Meret, Cristante e El-Sharawi Con i soldi di Chiesa Capite bene ragazzi che questa sarebbe stata un'offerta pazzesca Io veramente soffro nel pensare che la Fiorentina abbia rifiutato questa offerta E spero sinceramente che sia solo una voce di mercato Anche perché sinceramente io in questo momento reputo Chiesa e El-Sharawi pari Cioè El-Sharawi c'ha più anni ovviamente Però c'ha più esperienza Cioè io mi fido molto più ad andare in Champions con El-Sharawi rispetto a Chiesa Se mi proponessero lo scambio a Chiesa per El-Sharawi Probabilmente direi di sì A me El-Sharawi piace tantissimo Però io di Chiesa sono veramente innamorato Innamorato follemente Però diciamo che in questo momento penso Ragazzi dai Penso che El-Sharawi valga Chiesa Cioè io penso di non dire bagianale Nel dire che El-Sharawi vale Chiesa O comunque El-Sharawi più 6 milioni 5 milioni vale Chiesa Per quello che ha dimostrato Per l'età che ha Ma davvero pensate che El-Sharawi valga 50 milioni in meno di Chiesa Io sarei rimasto un pochino basito A fare questa A fare diciamo A vedere la Roma fare questa mossa di mercato E spero davvero che resti una voce di mercato E che lo sia Ne parla il Corriere dello Sport Quindi insomma non so A chi crede Io credo sia un'offerta da pazzi Sinceramente Non so voi che cosa ne pensate Io credo sia folle La Fiorentina Si rifiuta questa offerta Non lo so Fatemi sapere un commento qua sotto Secondo voi chi ci avrebbe guadagnato? La Fiorentina o la Roma? Perché? E poi chi pensate sia più forte? El-Sharawi o Chiesa? Fatemi sapere un commento qua sotto Io vi ringrazio per la visione Se vi è piaciuto invito a lasciare un mi piace In caso di te non dite like Come sempre Iscriviti al canale Mi raccomando Se ancora non lo hai fatto Seguimi su tutti i miei social Instagram Siamone Siquelf Trattino basso official Facebook Mi chiamo Siquelf Buon shalalala Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao rega Noi ci vediamo ad un prossimo video